Il gruppo del Tribunale di Bari, Anna Chiara Mastrorilli, ha rinviato a giudizio l'ex amministratore unico di Ferrovie Sud-Est Luigi Fiorillo e altri quattro imputati al termine dell'udienza preliminare su due presunte truffe ai danni della Regione Puglia. La vicenda riguarda l'acquisto in due commesse di 52 vagoni pagati complessivamente più di 115 milioni di euro, ma secondo la magistratura barese 23 milioni in più del prezzo di mercato Il giudice ha disposto quindi il rinvio a giudizio per le truffe, escludendo però l'aggravante della transnazionalità, dichiarando invece il non luogo a procedere perché il fatto non sostiste per i reati fiscali contestati a Fiorillo e la prescrizione di un episodio di corruzione. Nel frattempo per l'azienda e per servizi automobilistici SRL c'è il via libera al trasferimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al gruppo Ferrovie dello Stato. L'operazione è stata perfezionata nei giorni scorsi nella sede del Ministero delle Infrastrutture. Amministratore delegato è stato nominato Andrea Mentasti, direttore generale dell'Agenzia regionale di controllo della sanità nella Lombardia FSE e dunque da oggi una società del gruppo FS in attesa della presentazione della domanda di concordato preventivo.